Ciao, sono Valerio Novar. Chissà cosa sarebbe accaduto alla carriera di Evan Peters se non fosse stato scelto da Ryan Murphy in American Horror Story. Probabilmente avrebbe trovato un'altra strada per dimostrare il proprio talento. L'attore, classe 87, ha lasciato il segno nella serie antologica dell'orrore sin dalla prima stagione, interpretando un personaggio complesso, Tate. Da quel momento però ne ha fatta di strada, arrivando a vincere un Emmy per Omicidio a Easttown, dove recita insieme a Kate Winslet. Ma andiamo con ordine. Prima ancora di intraprendere la carriera d'attore, Evan Peters ha bazzicato nel mondo della pubblicità, partecipando a diverse campagne di brand come PlayStation e Kellogg's. Avvicinatosi alla recitazione intorno ai 15 anni, ha poi ottenuto il primo ruolo al cinema nel film Clipping Adam del 2004, seguito da Sleepover e American Crime. Al contempo, Evan Peters ha affinato anche la sua presenza in TV. Nell'arco della sua carriera è apparso in diverse serie TV, come Phil Dal Futuro, Invasion, Dirt, Dr. House, One Tree Hill, Criminal Minds, The Mentalist, The Office e Parenthood. Ma la grande rivelazione, come vi dicevo, è arrivata con American Horror Story. È entrato nel cast della prima stagione, andata in onda nel 2011, e da quel momento è diventato uno dei perni portanti di questa appassionante serie TV horror. Il suo personaggio è stato poi proposto anche in una nuova serie antologica intitolata American Horror Stories, legato profondamente a Ryan Murphy. L'attore è poi apparso in pause. Di recente è stato inserito nel mondo Marvel, prima nei vari film degli X-Men, a partire da giorni di un futuro passato, per poi figurare anche in WandaVision, serie TV che ha dato il via alla fase 4 dell'MCU. Qui ha ripreso il suo ruolo di Quicksilver, un personaggio dotato di super velocità, per il quale lui stesso ha ammesso di essersi preparato a lungo. L'ultimo ruolo televisivo l'ha visto recitare al fianco di Kate Winslet in Omicidio a Easttown, andato in onda su Sky. Al cinema invece, dei suoi ultimi film, ricordiamo Deadpool 2 e American Animals, e che dire invece dei personaggi che avrebbe voluto interpretare e poi assegnati ad altri. In passato Evan Peters ha svolto il provino di Pita, di Hunger Games, parte poi andata Josh Hutcherson. Di quel momento ha un dolce ricordo, soprattutto perché ha potuto recitare anche per un breve momento con Jennifer Lawrence. Lui ha detto che è stato davvero fantastico, dovevo fare una scena con la Lawrence, ero nervosissimo perché lei è davvero un'attrice straordinaria. Secondo me il film ha una trama grandiosa, ha raccontato Evan Peters. Ultimo e non ultimo ruolo, è quello di Jeffrey Dahmer nell'omonima serie TV su Netflix, che lo sta consacrando nel panorama dei migliori attori contemporanei di Hollywood, di cui abbiamo parlato in una nostra recensione. Insomma, un attore, secondo me, di cui sentiremo sicuramente parlare a lungo. E vi consiglio di recuperare qualche suo film, ma soprattutto serie TV, perché è un attore giovane ma che si sta imponendo piano piano nel panorama hollywoodiano con questa mimica facciale e questi film da brividi, perché poi la maggior parte sono drammatici thriller o horror. Fatemi sapere se vi piace Evan Peters nei commenti, se conoscevate già la sua storia, se sapevate insomma che avesse già partecipato ha tantissime serie TV e film e vi consiglio di iscrivervi al canale di Ciaccheazione e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nostri video, sulle news che pubblichiamo sia su YouTube che sulle nostre pagine Instagram e Facebook Ciaccheazione. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.